Partiamo da un esempio concreto. Nel vostro bilancio aziendale quanto pesano questi aumenti? Il settore del trasporto è molto problematico, nel senso che i costi che ci sono in aumento di questo gasolio a noi incidono su un 70% delle nostre spese dell'azienda. Quindi potete capire benissimo questo aumento di gasolio, cosa ha portato nelle nostre tasche. Il settore del trasporto purtroppo oggi è veramente in crisi perché nonostante che noi la nostra committenza l'abbiamo chiamata in causa e loro hanno così riconosciuto delle piccole cose ma non sono mai sufficienti a compensare questi costi. Ovviamente tra l'altro domani abbiamo anche un incontro con il governo proprio per approfondire il problema di questa problematica e qualcosina effettivamente il nostro Stato ci ha riconosciuto, le spese non documentate, però ripeto non sono mai sufficienti a coprire queste spese anche perché la nostra committenza è riuscita a darci qualche cosa ma molte volte la committenza lavora sempre con l'energia quindi automaticamente è una filiera a 360 gradi che anche loro si trovano in grossa difficoltà. Voi paradossalmente non potete nemmeno protestare se non avvisate addirittura 25 giorni ci vogliono di autorizzazione per uno sciopero del vostro settore. Esatto, come tutti i sciopero o manifestazioni devono essere gestiti e qui occorre circa 25 giorni perché noi chiediamo a degli uffici appositi per il nazionale di avere questa manifestazione o questo sciopero. Dopodiché ci raggiungeranno i documenti e noi quel tal giorno potremo fare manifestazione lo sciopero. Quindi lo sciopero per esempio che è stato fatto stamattina effettivamente è una piccola categoria che ha deciso di fare questo fermo però effettivamente lo Stato italiano ha chiesto di non farlo, di non fare questo blocco perché non erano nei tempi necessari dei 25 giorni che occorrono legalmente. Ecco ma una curiosità, noi vediamo oggi gli scaffali vuoti dei supermercati, questa psicosi da, non lo so se da guerra, se da un momento difficile, da incertezza, ma è perché gli autotrasportatori non viaggiano? Perché vediamo questi vuoti? No, assolutamente. Il trasporto ha sempre viaggiato e continua a viaggiare, non si fermerà. Ovviamente è certo che se continuiamo con questi prezzi non è che ci fermano gli altri ma dobbiamo fermarsi noi perché non ce la facciamo. Però il problema degli scaffali sicuramente è la psicosi e la paura delle persone che ovviamente pensano che non arrivi grano, non arrivi queste materie prime e quindi si accapparono. Ma assolutamente per quanto riguarda il trasporto, come dicevo, non è imminente perché, ripeto, se devi fare una manifestazione o uno sciopero occorre circa 25 giorni. Quindi è una psicosi esatta della gente. Che cosa chiedete al Governo centrale? Ma al Governo centrale noi chiediamo una soluzione immediata e questa potrebbe essere un credito d'imposta sul gasolio da portare subito magari in detrazione sull'F24. Questo potrebbe essere immediato perché ci sono delle accisi, si potrebbero togliere, ma siccome c'è un concordato con l'Europa che certe accise devono rimanere per certe spese, noi in Italia ne abbiamo un pochino più alte e quelle ce le potrebbe subito portare in defiscalizzazione in modo tale da alleggerirci il nostro bilancio.